Buongiorno, il 12 giugno 1942 Anna Frank inizia a scrivere il suo famosissimo diario. Anna Frank, tedesca che vive in Olanda, ebrea, e deve ovviamente nascondersi in questa casa con altre famiglie, scrive questo diario raccontando quello che avviene nelle famiglie e poi nel 1944 il diario viene interrotto e sappiamo che lei viene portata ad Auschwitz e poi a altri campi dove viene alla fine uccisa. E il padre Otto raccolge questo diario e lo pubblica finché il mondo possa leggere quelle pagine di una giovane adolescente con la vita davanti in realtà non ha niente davanti se non è cavale a gas. Sapete l'importanza di questo diario? Sì, sono gli ebrei che sono stati trucidati, ma tra gli ebrei c'era questa ragazzina con dei desideri, con degli amori segreti, con dei sogni, con la speranza di un futuro. Non sono solo ebrei, sono persone. Anna Frank ci dà questo fatto. È una persona. In questi mesi ho avuto l'onore di poter predicare a profughi, ossia a quella gente che è stata salvata dal Mediterraneo, portata in Italia e poi trasferita ai vari centri in Italia, alcuni dei quali sono cristiani, alcuni dei quali portano i loro amici in chiesa e ho potuto predicare e vedere proprio domenica scorsa quattro di questi venire a accettare il Signore. Quello che anche qua mi colpisce sono quattro persone. Quando preghi per loro, senti che hanno mamma e papà in Africa, in Siria, dovunque sono, che hanno fratelli e sorelle, che hanno un amore, che hanno la disperazione nel cuore, sono persone. Ora, io credo questo, che da cristiani non dobbiamo vedere la categoria. I tossici, i gay, che so io, le lesbiche, i neri, i bianchi, ah, sono persone. Quando Gesù affronta la donna adultera, Giovanni 8, i farisei dicono, Mosè ci ha detto di lapidare queste tali, cioè le adulterie, lapidiamole. Gesù si rivolge a questa donna, chiamandola donna, oppure signora. Cioè tu sei una persona. Non sei una di questi tali. Sei una persona. Con i tuoi dolori, con i tuoi pianti, con i tuoi amori, con i tuoi sogni, sei una persona. E io ti tratto come persona. E io ti chiamo per nome. È bello questo. Tante volte troviamo Gesù che dice Zaccheo, vieni giù. Non dici tu che sei lassù, vieni giù. Zaccheo. Ma lui è un pubblicano. Lui è un traditore degli ebrei. Lui è un ladro. Lui è una persona che abitua la tua mente a vedere persone. A vedere in quei profughi nel mare gente che ha amori, sogni, delusioni, disperazioni, parenti, mamma e papà lontani. Come te. Abituiti a pregare per le persone. Abituiti a considerare la persona che hai davanti a te una persona degna del sacrificio di Cristo. Il pregiudizio lavora sulle categorie i giudei, i neri, i zingari. Il cristiano lavora sul singolo. Sarai ebreo, sarai nero, sarai zingaro, sarai quello che vuoi. Ma tu sei una persona per la quale Gesù è morto. E se tu credi in Lui, tu diventi mio fratello. Io ti benedico.